Lo sfogo dopo la giornata, che c'ha da dire? Che sono sempre inferiori, stanno sempre sotto dei sette punti, il rigore su Mauri c'era, Totti è una merda, la mamma è De Rossi è una puttana, Dante è il cornestaro fallito, guardalo, guardalo là, guardalo là, stanno così pure della roba il cornestaro, ma niente, sempre per i cazzivi da Temo e stanno sempre tutti insieme.